C'è il laboratorio di patologie cliniche di Soveria Mannelli? C'è una patologia che è una delle principali cause di morte soprattutto nell'uomo. Che cosa dire? Noi siamo laboratori di riferimento, lavoriamo in questo settore dal 2008, stiamo cercando di incrementare l'afflusso dei soggetti interessati a questo progetto di screening, siamo disponibili anche a fare da fulcro rispetto al territorio, cioè a consegnare provette e quant'altro fosse necessario affinché lo stesso screening abbia luogo nei modi e nei tempi dovuti. Stasera ci concentreremo soprattutto su questo aspetto, sottolineando come il laboratorio resterà a disposizione naturalmente per un certo orario, tutti i giorni, dalle 11.30 alle 13.30 circa, per la consegna del materiale necessario.